Salve a tutti i piccoli disonesti e disonesti, io sono Disonbrochius e bentornati nell'ultimo video del mio canale Già, ultimo video del canale Purtroppo il gioco è bello finché dura poco, dice un detto Ma vi spiego perché Innanzitutto volevo comunque ringraziarvi, ringraziarvi in questi due anni che mi avete sempre supportato E siamo cresciuti lentamente, ma abbiamo superato i 200 iscritti e questo devo ringraziarvelo di cuore Voi siete stati un grande aiuto, per me a livello morale, a livello personale siete stati fantastici Però purtroppo nella mia vita mi sono ritrovato con due scelte Youtube o lavoro Diciamo che Youtube non è il guadagno vero Non è un guadagno che con gli iscritti che ho, con le visualizzazioni che ho, puoi continuare ad andare avanti E di conseguenza ho voluto dare più priorità al lavoro Facendo così non posso più registrare, caricare tutti i giorni E purtroppo per un canale di gaming Oggi come ho detto oggi bisogna caricare almeno un video al giorno se si vuole stare dietro agli altri O se no aumentare uno o due giorni, due video al giorno E per me è stato qualcosa di insostenibile, qualcosa di impraticabile Così ho deciso di chiudere tutto Ma non finisce la mia avventura così su Youtube Aspettate Io continuo a fare video su Youtube Ma non dicendo di gaming Il gaming per me ha troppa Troppa concorrenza Spudorata concorrenza Troppi piccoli canali che comunque da mille iscritti in su Tanti iscritti Tanti emergenti E c'è troppa concorrenza E faccio fatica ad emergere Ho sempre fatto fatica ad emergere Di conseguenza Voglio portare di nuovi video Che so Che forse Aiuteranno Il nuovo canale Il canale si chiama Smiley Softair E appunto porterò video su Softair Video Softair Gameplay Recensioni Boxing È un hobby che ho porto ormai da due anni Che gioco quasi tutte le domeniche È un hobby Molto Disprendioso Ma Se inizio a registrare le partite gameplay Vorrei farvelo Come possiamo dire Farvi scoprire questo mondo Che è veramente poco portato in Italia È poco valorizzato E invece è un gioco che Anche se simula la guerra Va A creare dei legami di squadra Veramente fantastici E anche delle amicizie Che Fantastiche Veramente fantastiche Io vi ringrazio Per aver sopportato Disneyland Brochius Il canale Vi aspetto Vi lascio il link In descrizione O basta che cercate Smiley Softair E se vi iscrivete al nuovo canale Vi chiedo Sul trailer Che ho già pubblicato Di scrivere Io Ci sono ancora Hashtag Io ci sono ancora E così capirò Che mi state seguendo Da Disneyland Brochius Non mi chiamerò più Disneyland Brochius Mi chiamerò Smiley E Comunque Troverete sempre Il mio umorismo Pazzo umorismo Lo chiamo così io Perché mi piace Mi piace Fare video E mi piace Parlare con voi Ed essere Aperto col mondo E' un po' Un po' di rottura di cuore Diciamo Abbandonare il canale così Ben avviato Con più di 100 video E 200 iscritti ragazzi E' stato dura E' stato un canale duro E' stato sofferto E infatti non lo chiuderò Rimarrà Rimarrà là Mi dispiace per la luce ragazzi Ma sto registrando davanti la finestra E' un punto con Abbastanza luce Vi ringrazio Sul supporto che mi avete dato su questo canale E sul supporto Di chi verrà A continuare a seguirmi Anche se non tratteremo di gaming Vi ringrazio E ci vediamo Su Smiley Software Ciao ciao